Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence TV per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa della chiusura delle corsie di sinistra per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci si registrano 4 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sempre in A1 ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma e rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Uno sguardo sulla 12 anche qui a causa di lavori, code a tratti tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. In Fipili invece si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze e rallentamenti tra Empoli e San Mignato in direzione Livorno. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!